Per la prima volta la Valle d'Aosta ha una cantina che da tre anni consecutivi si conferma tra le 100 migliori d'Italia secondo una delle più importanti riviste americane del settore vitivinicolo. Anche quest'anno siamo stati selezionati da Opera Wine, un evento, un gran tasting organizzato da Wine Spectator, una delle guide più famose a livello internazionale che parlano di vino. Ed è veramente una grandissima soddisfazione sapere che siamo stati comunque selezionati per tre anni consecutivi e con tre varietà completamente differenti. Due anni fa con l'Appetite Arvin Vignarovetta 2014, quindi un bianco molto importante per noi, l'anno scorso con il Fiumen Vignarovetta 2010, quindi un rosso di grande eleganza e struttura e quest'anno, il terzo anno consecutivo, con il Pino Nero Vigna Zariat. Da qui nasce il nostro Pino Nero Vigna Zariat, il Pino Nero selezionato da Opera Wine. Questo è un territorio molto importante, ci troviamo a 800 metri di altitudine, un'esposizione sud, quindi una zona molto calda e quindi questo ci permette di mantenere e di avere un'ottima maturazione del nostro prodotto e mantenere un'ottima freschezza. Il nostro futuro è basato sull'agricoltura biologica, su idee ecosostenibili e quindi la strada del biologico sarà quella che percorreremo nei prossimi anni, per garantire comunque maggiore sostenibilità e maggior trasparenza nel rispetto dei nostri consumatori.